Ruba da ragazzini, uno scherzo, non era agguato, non era niente del genere. Doveva essere uno scherzo ad una coppia di amici che sarebbe dovuta passare da quella strada, continua a ripetere chi conosceva William Perrone. Il 19enne è ucciso la notte scorsa con due colpi di pistola sparati da un carabiniere in servizio durante i controlli alla periferia di La Terza, nel Tarantino. Uno scherzo che è finito in tragedia, William, secondo la ricostruzione fatta dall'arma, sarebbe sbucato da un muretto a secco indossando una tuta da meccanico sul volto, una mascherina da lavoro, in testa un turbante e impugnando una pistola, poi risultata giocattolo nonostante fosse priva del tappo rosso all'estremità della canna puntata contro i carabinieri. Durante un giro di perlustrazione sulla careggiata i militari notano dei sassi posizionati in modo tale da ostacolare la circolazione. Dopo aver rallentato il veicolo, uno dei due scende dall'auto ed è proprio in quel momento che sbuca il 19enne puntando l'arma contro il carabiniere. L'altro, temendo che William possa fare fuoco, preme per due volte il grilletto della sua pistola di ordinanza, ma uno dei colpi recide la carotide. Questa è la versione fornita dai carabinieri. Pare che sul luogo vi fossero alcuni amici di Perrone di colui che doveva essere la vittima dello scherzo, ma subito dopo l'omicidio sul posto non è stato trovato nessun altro. Poco più di due anni fa, nel maggio 2009, nella stessa zona, con analoghe modalità un uomo tenne sotto scacco una coppia di fidanzatini di La Terza. Lui di 18 anni, lei di 16, dopo essere sbucato da un cespuglio, si catapultò nell'auto con il volto mascherato impugnando una pistola. Dopo aver chiuso il 18enne nel portabagagli, violentò la ragazza e alla fine li derubò e fuggì. E il ricordo di quel violento fatto di cronaca avrebbe determinato quindi nei ragazzi le modalità dello scherzo e nei carabinieri la reazione che ha prodotto la morte di Perrone. Per tutti in paese era un bravo ragazzo, primo genito di ottimi genitori, lui titolare di una polleria e lei di un negozio di abbigliamento alla terza. E per uno scherzo del destino, come racconta un amico, il desiderio di William era proprio quello di fare il carabiniere. Lui voleva, ha fatto il concorso per i carabinieri ed è stato rifiutato ai carabinieri, proprio c'è stato questo controsenso. Intanto la posizione del carabiniere che ha ucciso il giovane è al vaglio della magistratura.